Da oggi, con le pareti frangivento di belle vetrate scorrevoli, potrete vivere tutti i vostri spazi esterni e isolarvi fino al 90% da rumori esterni, caldo e freddo, guadagnando in serenità e salute. In più, beneficerete di una garanzia di 5 anni e delle detrazioni fiscali del 50%, quindi a conti fatti pagherete la metà. La leggerezza, la trasparenza, l'assenza di profili verticali e un'assoluta facilità di movimento sono alcuni dei vantaggi di belle vetrate scorrevoli che vi permetteranno di godere della vita all'aria aperta ogni volta che vorrete. Contattaci per qualsiasi informazione. La posa in opera sarà semplice e senza opere murarie e sarà completata in una sola giornata. Le nostre vetrate frangivento sono realizzate in vetro temperato, certificate CE e resistentissime. Progettate e realizzate su misura per voi con particolare attenzione a funzionalità e sicurezza. La loro durabilità e resistenza è a prova di qualsiasi tentativo di rottura o manomissione. Reggono pesi importanti e non temono nessun oggetto, neanche se lanciato con forza. E poi, grazie ad un brevetto esclusivo, le potrete ripiegare a pacchetto con un ingombro minimo per poter sfruttare i vostri spazi esterni al meglio. E allora, non vi resta che trasformare il vostro portico o il vostro balcone nell'ambiente che avete sempre desiderato. Abilità artigianale e vocazione industriale guidano la filosofia di belle vetrate scorrevoli, con l'obiettivo di valorizzare gli spazi esterni di casa vostra. Il nostro personale segue tutte le fasi di lavorazione, dalla selezione dei materiali all'installazione, per darvi la migliore qualità unita alla precisione tecnologica. Un nostro incaricato verrà a casa vostra per consigliarvi la migliore soluzione e definire un progetto senza alcun impegno. E se deciderete di approfittare di questa straordinaria offerta, la vostra soluzione sarà pronta e verrà installata in appena una giornata, senza alcuna modifica alla struttura della vostra abitazione. Dai migliori esperti del settore, infatti, noi di belle vetrate scorrevoli, abbiamo soli installatori professionisti, certificati con attestato Casa Clima. Il tutto con pagamenti personalizzati per venire incontro ad ogni esigenza dei nostri clienti. E non dimenticate la garanzia di 5 anni e la detrazione del 50% che dimezzerà il costo reale. Affidate la bellezza e la sicurezza dei vostri spazi domestici a belle vetrate scorrevoli. Azienda italiana che unisce la migliore cura artigianale alla più moderna tecnologia, con un servizio di pre-post vendita per la cura di ogni cliente. Realizzate i vostri sogni con belle vetrate scorrevoli. L'unica soluzione capace di dare più spazio alla qualità della vita, nella costante armonia tra dentro e fuori.